Ciao a tutti benvenuti in un nuovo video di Dying Light dove vi mostrerò delle tattiche o meglio dei consigli per battere i mini boss che si trovano in giro per Dying Light quindi beh iniziamo subito come vedete mi trovo nella città vecchia che sto andando a cercare dei mini boss che sono i bestioni che si trovano in giro per la città ok eccone uno allora ho un metodo è ucciderlo a distanza ravvicinata come sto facendo io perché sto facendo un po' di fail tutti sono i tizi che mi vomitano addosso vi sto facendo vedere che distanza ravvicinata non dovrete mai farlo perché come vedete sto per morire aiuto dai vieni dai combatti no un altro metodo sarà quello di ucciderli allontanandosi stando lontani quindi come vedrete io sarò degli shuriken solo che si possono usare anche benissimo dalle armi solo che purtroppo non ce l'ho perché l'ho dovuto vendere per fare dei soldi su Dying Light quindi io sarò dei shuriken si vabbè gli faranno molto poco danno i shuriken perché vabbè avevo solo questo per fare il video potevo usare le armi solo che non ce l'ho buzz non mi ha neanche preso eh vabbè il video sta per concludere come vedrete io che ci riprovo a ucciderlo gli vado addosso solo che scusate ogni tempo smetto di parlare ma c'è energy nel gruppo che continua a parlare a rompere quindi quindi vai uccidiamolo grazie per aver visualizzato il video ciao 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 ciao